Vogliamo ricostruire il centro-sinistra, così Liberi Uguali che festeggia l'elezione a parlamentare di Giuseppina Occhionero. Liberi Uguali in Molise festeggia l'elezione alla Camera dei Deputati di Giuseppina Occhionero e punta per le prossime elezioni regionali ad essere il perno per la ricostruzione del centro-sinistra. Lo hanno detto a chiare noti in conferenza stampa la stessa neoparlamentare Giuseppina Occhionero, accompagnata da Gian Maria Palmieri Oreste Campopiano. Ora, ha detto Palmieri, dobbiamo ricostruire il centro-sinistra, depurato dal PD di Frattura e Fanelli, che ha lasciato solo macerie politiche sul terreno. Per questo, ha aggiunto Palmieri, c'è la necessità di ritrovarsi intorno ad un tavolo per ricostruire un'area punita dagli elettori. Anche per Oreste Campopiano la ricostruzione deve ripartire proprio da Liberi Uguali. Il voto ai 5 Stelle, ha detto, è significativo e rappresenta non solo un malessere dell'elettorato, ma ha un chiaro significato di sfiducia rispetto ad una certa classe politica. Ecco perché, a chiuso Campopiano, dobbiamo rappresentare la discontinuità. Ma è stata proprio la neoparlamentare Giuseppina Occhionero a ribadire il concetto. Grande soddisfazione e una grande responsabilità. Siamo la casa del centro-sinistra e quindi dobbiamo ripartire da qui per costruire un centro-sinistra che sia caratterizzato da quelli che sono davvero i valori del centro-sinistra. Riparte dalle regionali. È chiaro, voi parlate di discontinuità rispetto a Frattura. Sì, discontinuità rispetto al governo Frattura e partiamo da qui anche per le regionali. Chiaramente Liberi Uguali è attualmente la casa del centro-sinistra. Noi abbiamo anche Molise 2.0 e partiamo da queste nostre forze per guardare a tutte le forze politiche che hanno i nostri stessi obiettivi, i nostri stessi principi di centro-sinistra. Ecco, si esce da un Molise che doveva essere diviso in più parti, si parla ancora di autonomia. Lei che pensa? È chiaro che dobbiamo guardare a tutte le forze politiche che possono essere accorpate nel nostro grande disegno e partire da qui.